Cioè, a parte quel discorso dei vegani che è famosissimo, ma ti capita mai di avere i terzi dal vivo? Cioè qualcuno che è dal vivo ti dice qualcosa? Ma sai, dal vivo sì, è successo sui vegani, è successo su Napoli, sulle cose che riguardano Napoli. Ho una controversia... E in quale città? Ma sì, ma perché ogni tanto faccio dell'ironia su alcune cose che succedono a Napoli e che sono secondo me uniche, no? Da un certo punto di vista. Ma non per questo significa che Napoli non sia una città straordinaria, naturalmente, ma questo è un altro discorso. Oggettivamente fai solo notare ciò che accade. Sì, ma insomma, alcuni gruppi di persone, però dal vivo no, dal vivo solamente vegani... Bellissimo. Animalisti, vegani.